Perché i ricchi hanno i debiti? Perché tanto più una persona è facoltosa e tanto più ricorre all'utilizzo di finanziamenti esterni? Non può quella persona utilizzare e far fronte per i propri investimenti alle disponibilità economiche che già possiede, evitando quindi di pagare degli interessi su qualsiasi prestito ricevuto? La risposta, ancora una volta, sta nel concetto di leva finanziaria, quello che viene definito appunto il segreto dei ricchi, perché questo concetto, chi si è arricchito nel corso del tempo, molto probabilmente lo padroneggia alla perfezione e ha capito come la leva finanziaria può essere uno strumento che ci permette di far guadagnare sempre di più e aumentare i ritorni dalle nostre operazioni di investimento. Quando quindi sento una persona facoltosa a dire io compro tutta equity perché non voglio alcun finanziamento con la banca e non voglio pagare degli oneri finanziari perché sarebbero una spesa inutile, quello che mi viene da pensare dentro di me è sempre questa persona non conosce alcuni principi, ovvero non conosce la leva finanziaria. Quando sento infatti dire ho acquistato tre case, due appartamenti, un terreno e un magazzino ma l'ho fatto solo e soltanto con le disponibilità economiche che possiedo, allora quello che penso e che mi avrebbe da rispondere è mi dispiace per te perché non hai ottimizzato finanziariamente le tue operazioni e se le stai facendo quelle operazioni non tanto per acquistarli come beni di lusso, come la casa al mare, ma bensì li stai acquistando proprio per fare degli investimenti, allora i ritorni che avrai saranno per forza di cose più bassi rispetto a quelli che avresti potuto ottenere finanziando correttamente quelle specifiche operazioni. Avevo già citato brevemente il concetto di leva finanziaria in un precedente video a tematica debito ma vorrei ritornarci con un nuovo contenuto specifico perché davvero è uno degli argomenti principali che molte persone purtroppo ignorano, non sapendo come funzionano i ritorni, la leva finanziaria e sfruttare un finanziamento esterno. Non a caso questo è anche l'argomento che sta alla base dei corsi che vengono venduti online su come investire in immobili e accumulare il proprio patrimonio nel corso degli anni. Quindi se alla fine di questo video ti sarò stato utile, il video ti è piaciuto e ho evitato di farti spendere anche centinaia se non migliaia di euro in uno di questi corsi ti credo solo di lasciare un bel mi piace. Velocissima descrizione di nuovo di questo concetto. La leva finanziaria ci permette quindi di ricorrere a del finanziamento esterno per far sì che noi riduciamo l'equity iniziale, ovvero le nostre disponibilità economiche, in un qualsiasi tipo di investimento. La leva finanziaria quindi ci permette di utilizzare dei soldi esterni ma investire in un asset che genera dei rendimenti, dei ritorni, dei flussi di cassa e di godere appieno di queste future entrate. Non dobbiamo però dimenticarci che la leva finanziaria ci permette anche di condividere purtroppo però le perdite qualora accadano. Quindi bisogna stare molto attenti anche nel conoscerla e nell'utilizzarla. Inoltre la leva finanziaria è un aiuto economico per far sì che riusciamo a portare a termine delle operazioni che non potremmo fare con le nostre disponibilità economiche. Basti pensare all'acquisto di un appartamento di 300.000 euro che non saremo mai in grado di fare se le nostre disponibilità si fermano a 100.000. Quindi ricorrere ad un finanziamento esterno in questo caso può comunque essere utile. Dove viene applicata la leva finanziaria? La leva finanziaria si applica davvero a praticamente tutti gli investimenti altrimenti non esisterebbero divisioni specifiche di particolari banche in acquisition financing così come la divisione di leverage finance. Non esisterebbe il private equity se non ci fosse il concetto di leva finanziaria e non esisterebbero probabilmente molte delle operazioni immobiliari di real estate. Come però mi aveva scritto uno di voi Io comprendo, Yuri, tutte queste operazioni però queste operazioni riguardano l'alta finanza oppure comunque aziende. Io che sono un singolo privato, lavoro come dipendente come posso utilizzare l'alleva finanziaria nella mia vita per ottenere dei maggiori ritorni dai miei investimenti? Ottima domanda La risposta sta che una persona individuale, semplice che non sta facendo nessun tipo di progetto, startup, azienda o investimenti comunque notevoli può ricorrere all'alleva finanziaria in due semplici situazioni. La prima nelle operazioni di acquisto e vendita di titoli in borsa quotati ma vi sconsiglio fortemente di ricorrere all'alleva finanziaria in questo caso a meno che non siate un trader professionista perché altrimenti il rischio di incombere in perdite dalla quale difficilmente riusciremo a recuperare può essere comunque notevole. E l'altra situazione è quella di ricorrere all'alleva finanziaria quando andiamo ad acquistare immobili asset fisici reali come appartamenti, ville, magazzini, terreni questo perché? Perché in questo caso la banca sarà più facilitata a finanziarci per l'acquisto di un asset reale dietro la quale ci sarà un'ipoteca e un pignoramento nel caso in cui noi non riusciremo a ripagare il nostro debito nel corso degli anni. L'alleva finanziaria però non si applica solo al finanziamento bancario ma nel 2021 possiamo ricorrere davvero a finanziamenti esterni in varie tipologie come l'equity crowdfunding e l'ending crowdfunding ma chiaramente come singoli privati che acquistiamo un immobile non possiamo ricorrere a questo tipo di finanziamenti esterni ma quello che volevo far passare come concetto è che l'obiettivo dell'alleva finanziaria è sempre ridurre il nostro equity iniziale indipendentemente da come l'altra parte dell'investimento viene finanziata se i soldi vengono dati da una banca oppure da altri investitori. Facciamo quindi un semplice esempio su come funziona l'alleva finanziaria ipotizzeremo quindi l'acquisto di un immobile ricorrendo o meno al debito bancario e vedremo come cambiano i ritorni della nostra operazione ci saranno quindi dei numeri semplici dammi e vi prego di concentrarvi quindi non tanto sul reale numero che sta dietro ad un'operazione di acquisto di immobili ma bensì nel capire le differenze tra il primo scenario e il secondo scenario in questo primo scenario acquistiamo una casa del valore di 100.000 euro con il nostro equity a disposizione l'investimento iniziale compreso il costo del notaio ipotizzato a essere 102.000 euro a seguito dell'acquisto l'immobile verrà messo a reddito e incasseremo annualmente un affitto da parte degli inquilini pari a 3.240 euro e alla fine di 7 anni rivenderemo la casa a 120.000 per un qualsiasi motivo infatti il nostro valore dell'immobile si è apprezzato magari la zona si è migliorata così come il valore immobiliare del quartiere nel quale abbiamo acquistato è salito nel corso degli anni lasciamo perdere tutta una serie di argomenti che adesso complicherebbero quello il calcolo ovvero ristrutturazioni, imposte, costi di agenzia tasse da pagare sulla cedolare secca che per il momento togliamo da questo esempio il ritorno della nostra operazione in questo caso annualizzato, netto, composto a RAR è pari al 5% vediamo quindi come cambia nello scenario con l'utilizzo della leva finanziaria in questo caso l'immobile di 100.000 euro verrà finanziato all'80% dalla banca con l'onto value massimo e quindi il nostro cash in iniziale sarà pari a 20.000 euro per l'immobile a cui si dovranno aggiungere le spese per notaio in questo caso le spese per la banca per un totale pari a 23.000 euro ipotizziamo quindi che il nostro finanziamento pari a 80.000 euro abbia una rata di 270 euro mensili che guarda caso fa all'anno 3420 questi numeri sono numeri comunque reali che ho appena preso da Mutual Line e sono aggiornati ad oggi luglio 2021 dove ho ipotizzato una durata di 30 anni e un tasso fisso dobbiamo quindi incassare l'affitto degli inquilini ma nei 7 anni che vanno dall'acquisto dell'immobile alla vendita come potete vedere il flusso in entrata è pari a 0 questo perché avevo ipotizzato in precedenza non a caso un affitto esattamente uguale alla rata del mutuo che cosa succede alla fine? alla fine andrò ad incassare 120.000 euro per la rivendita dell'immobile ma allo stesso tempo dovrò comunque saldare il debito con la banca che in questo caso dopo 7 anni rimane ancora aperto per 65.000 euro avendo però ridotto notevolmente il cash out iniziale il mio equity solo 20.000 anziché 100 i ritorni sono notevolmente aumentati 14% contro 15% di ARRAR questo è il concetto di leva finanziaria chiaramente l'esempio che abbiamo visto è abbastanza semplice perché ci sono notevoli complicazioni e di solito come avevo spiegato in un altro video l'ARRAR medio di questo tipo di operazioni immobiliari può oscillare da un 6% ad un 9% ma un 9% riescono a farlo chi lo fa di professione riesce davvero a ridurre notevolmente alcuni costi che individualmente non potremo fare chiaramente in mezzo ci sono tutta una serie di variabili che potrebbero comunque andare a incidere i nostri rendimenti che in questo esempio io non ho preso per questioni semplicistiche come una variazione di tassi colore il finanziamento fosse fisso variabile il rischio di credito le ristrutturazioni le imposte varie che potrebbero anche cambiare di fatto quella dopo diventa una vera e propria operazione di investimento dietro la quale vi sono comunque dei rischi in questo video spero però di averti fatto una panoramica della leva finanziaria e di averti fatto comprendere in maniera definitiva perché le persone anche se hanno disponibilità economiche nei loro conti correnti o nei loro investimenti preferiscono comunque ricorrere alla leva finanziaria per massimizzare i loro ritorni se l'acquisto di un asset viene fatto comunque ai fini di investimento ricordati infatti che il periodo storico che stiamo vivendo ci fornisce comunque un'ulteriore facilità nel ricorrere alla leva finanziaria data dai bassi tassi di interesse che andremo comunque a pagare sui prestiti che richiediamo che aumentano ancora di più il rendimento finale dell'operazione rispetto a quello che avremmo ottenuto per esempio negli anni passati se sei interessato all'argomento e ulteriore video che arriveranno a tema immobiliare non dimenticarti di iscriverti al canale e noi ci vedremo presto con altri nuovi contenuti per diventare sempre più informati su quelli che sono i concetti principali della finanziaria ciao 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 ciao